Ben trovati, ieri abbiamo fatto una valutazione partendo da un post che l'ex governatore di Puglia, Nichi Vendola aveva pubblicato l'altro ieri a sera sul proprio profilo Facebook. In questo suo dire epitetava come squadristi coloro che criticavano la sua scelta fatta con il compagno Ed di comprare un figlio, perché di questo si è trattato. La cifra secondo alcuni giornali supererebbe i 130 mila euro e attenzione, alla base del mercato legato agli uteri in affitto vi sono vere e proprie società multinazionali che lucrano utilizzando la donna, sfruttando la donna come un pappone sfrutta la donna che fa prostituire. E' la stessa cosa, il diritto di una donna a non essere usata dovrebbe essere difeso a prescindere. E Vendola, a proposito delle situazioni discutibili in cui l'ex premier Berlusconi ospitava pagando ogni sera per averle a cena delle donne provenienti anche da fuori Italia, andò a inveire contro l'uso della donna e aveva probabilmente ragione. Ma perché oggi lui usa la donna per fruire di un diritto che potrebbe non avere, essendo la sua, una coppia formata da due uomini? Però, attenzione, ironizzo anche, non su questo aspetto, sulla vicenda vendoliana, anche per non essere chiamato squadrista, assolutamente. Innanzitutto abbiamo capito che Nicky Vendola nella coppia sarà la mamma, perché è Ed, il suo compagno canadese, ad aver dato la possibilità di fecondare e quindi di avere il bimbo. Un'altra riflessione però seria è quella che questa donna è mamma, ma non lo sarà più, perché il suo bambino non lo avrà tra le sue braccia, ma sarà tra le braccia di altre persone. Ritorno un po' a ironizzare, permettetemelo, il figlio di Nicky Vendola è figlio nostro. Sapete perché? Perché bisogna essere ricchi per poter acquistare o affittare o noleggiare, purtroppo uso questi verbi, rispetto ad una donna, un utero. Sì, bisogna essere ricchi e Nicky Vendola è ricco, grazie a noi, con la sua buonuscita e con i suoi vitalizi che scaturiscono da quando è stato parlamentare italiano e dalla sua ultima decennale esperienza alla presidenza della Regione Puglia. Per cui è figlio nostro, perché se fosse stato un uomo povero non si sarebbe potuto permettere questo diritto, come lo chiama lui, alla felicità. Soltanto l'uomo ricco può disporre di cifre importanti e pensare di poter comprare il mondo ed in questo caso un figlio. Questo è un aspetto che deve far riflettere e non può permettere ad alcuno di fare la morale contro chi la pensa in un modo o nell'altro. Cosa diversa, sapete, è la fecondazione artificiale in una coppia formata da uomo e donna, quando uno dei due ha problemi legati alla propria fisicità e quindi alla propria capacità di riprodurre, che è diverso da quando due donne o due uomini decidano di diventare genitori, anche se la natura non lo permette loro, ma i soldi probabilmente sì. Sì, certamente vendola non è l'unico caso, assolutamente, è uno dei tanti casi di facoltosi signori che possono pensare di comprare tutto e quindi in questo caso, e lo dico con rispetto, di comprare anche la felicità di avere un figlio, pur togliendo la felicità ad una donna indonesiana che forse lo rivedrà o non rivedrà più colui che è nato dal suo utero. E questo è un altro passaggio. E ritengo che in ogni comportamento, sia l'etica comportamentale che anche la morale, debba essere rispettata e ancora di più quando qualcuno rappresenta qualcun altro, ossia rappresenta la politica e il popolo. In Francia è partito un movimento fatto anche di femministe e di associazioni lesbiche contro l'utero in affitto. Attenzione, perché qualcun altro, a proposito della parcondicio, potrebbe proporre anche una società di piselli in affitto. E qui poi non si capirebbe più assolutamente nulla. rispetto unico e immenso per le scelte. Però io credo che il governatore Bendola avrebbe fatto probabilmente bene, volendo avere un proprio figlio, come ho già detto ieri, magari a ospitare nella sua casa uno dei tanti bambini abbandonati, come probabilmente lo sarà quel bimbo proprio nel Salento, che non è riconosciuto dalla propria mamma. Forse Bendola, volendo fare il genitore, avrebbe potuto non andare in Canada, ma venire nel Salento. A domani.